Ciao, sono Alessandra e oggi cucineremo insieme i Clour Jones con arselle e botarga. Gli ingredienti che ci serviranno sono la menta, la semola, le arselle, pecorino stagionato, un uovo, farina, aglio, patate rosse, zenzero e botarga. Per prima cosa, molto importante, mettiamo a macerare il nostro aglio con dell'olio. Lo lasciamo a macerare per circa due ore. Mentre il nostro aglio sta macerando, ci portiamo avanti e mettiamo a bollire delle patate rosse. La dose che solitamente facciamo ovviamente sono mezzo chilo minimo di patate rosse, ma uscirebbero 60 ravioli, quindi in questo caso possiamo tranquillamente fare anche due patate, dipende da quanti ne vogliamo fare. Mettiamo a bollire le nostre patate e frulliamo il nostro aglio. Dobbiamo ottenere quindi proprio un olio aromatizzato all'aglio e risulterà anche leggermente biancastro. Ora iniziamo a preparare il nostro ripieno. Iniziamo a tritare un pochino di menta. Solitamente si usano per mezzo chilo di patate circa 10 foglie di menta. In questo caso ne stiamo facendo ovviamente un pochino di meno, quindi possono bastare due. Il molto importante è che il ripieno deve riposare almeno una notte di frigorifero, quindi stiamo molto attenti dosando pecorino e menta, perché riposando i sapori vanno poi a diventare sempre più forti. Ok, mettiamo la menta nella boll. Allora, sbattiamo l'uovo in una ciotola. Mettiamo un pizzico di sale. Poi mettiamo il pecorino. Per mezzo chilo di patate ci vogliono circa 300 g di pecorino. Ovviamente anche in questo caso ci possiamo dosare noi in base anche al sapore che preferiamo. Una volta che le nostre patate sono bollite, le prendiamo, le scoliamo. Ovviamente scottano un pochino. Mettiamo nel nostro schiacciapatate. Aggiungiamo l'uovo. Basta anche un pochino meno che un uovo intero, ci possiamo sempre dosare noi. Mescoliamo. Aggiungiamo l'olio con l'aglio. Un altro po' di pecorino. Poco a poco sale. L'impasto deve essere bello duro. Adesso il nostro ripieno è pronto, va lasciato riposare in frigorifera almeno una notte. Adesso prepariamo invece la pasta. Ci servono 300 g di semola e 100 g di farina. Ovviamente dipende sempre da quanti ne vogliamo fare. Lavoriamo sul tagliere. Un pochino di sale. Mischiamo le due farine. L'acqua ovviamente non c'è un dosaggio preciso, ci dobbiamo regolare noi. Questo tipo di ravioli è molto conosciuto, infatti molte persone, anche non sarde, li conoscono e spesso si possono trovare anche in vendita nei supermercati in tutta Italia. È un formato tipico di pasta che non è della mia zona perché io sono di Cagliari e questi vengono preparati invece nell'ogliastra. La parte più difficile in realtà è la chiusura del raviolo in sé che dopo vi farò vedere. La pasta a mano poi è un'abitudine proprio che mi ha insegnato nonna, anche se adesso poi non riesce più a farli perché è troppo anziana, quindi ci mettiamo a farli soprattutto io e mia zia e mia nonna ovviamente rimarca che i suoi sono più buoni. Fa sempre un sacco di complimenti mia nonna quando cuciniamo noi. Il nostro impasto è quasi pronto, tiriamo bene la pasta. Ok. È molto importante anche per l'impasto farlo riposare, quindi prendiamo una bolle. Lo poniamo in una bolle, lo copriamo con la pellicola e lo lasciamo riposare a mezz'oretta. Dopo che il nostro impasto avrà riposato un pochino, possiamo iniziare a stendere la pasta. Ci servirà un altro pochino di farina per aiutarci nel nostro lavoro. Quindi iniziamo a stenderla col mattarello. Deve essere fine ma non troppo perché altrimenti non riesce a reggere comunque l'impasto perché è un raviola abbastanza ripieno. Adesso ci servirà un coppapasta di circa 6 centimetri, tra i 6 e 8 centimetri di diametro. Facciamo dei cerchi. Nel frattempo, prima di chiuderli, iniziamo a mettere l'acqua per la pasta a bollire. Mettiamo il sale nell'acqua e la lasciamo andare a bollore mentre noi chiudiamo i nostri ravioli. Prendiamo il ripieno che abbiamo fatto riposare in frigorifero. Prendiamo un dischetto di pasta fra le mani. Il nostro ripieno. Mettiamo abbastanza il ripieno, tanto tutto quello che è in eccesso poi andremo a toglierlo quando si chiuderà il raviolo. Chiudiamolo bene nelle mani e iniziamo a chiuderlo. Pizzando e facendo la chiusura a spiga. Vedete, il ripieno in eccesso andrà a cadere. Chiudiamo bene con le dita in modo che poi il raviolo non si vada ad aprire in cottura. Ecco qua. E li lasciamo qua e continuiamo. Insieme al ristorante nel piatto te ne danno 5. Una persona normale, forse più di 6 non riuscirebbe a mangiarli perché comunque è un ripieno bello pesante. Solitamente il condimento classico di questo tipo di raviolo è burro e salvia o un sugo semplice di pomodoro e basilico anche perché già il ripieno di per sé è abbastanza forte e quindi riesce a mangiarne 6. Ho visto persone in grado di mangiarne anche 15 da sole. Dipende. L'acqua sta bollendo, quindi buttiamo i ravioli. Nel frattempo prendiamo le arselle. Allora, le facciamo aprire. Aromatizziamo l'acqua delle arselle già con dello zenzero. Allora, nella nostra emulsione mettiamo un po' di zenzero, oltre a quello che abbiamo già messo per aromatizzare l'acqua delle arselle. Poi grattugiamo della bottarga. Ok, dovrebbe bastare. La teniamo qua perché poi la utilizzeremo di nuovo anche per impiattare. Spegniamo il fuoco in modo che rimangano il meno cotte possibile. Adesso usiamo invece l'acqua delle arselle. Usiamo un cuorino, così la filtriamo e la mettiamo per la nostra emulsione. E andiamo a frullare. Ok, allora. Mettiamo la nostra emulsione in un biberon. E la iniziamo a mettere qua da parte per quando dovremo impiattare. Prendiamo una padella più larga dove far saltare i nostri ravioli. Allora, sgusciamo le arselle. Mettiamo un goccino di olio. Solitamente i ravioli quando iniziano a salire sono quasi pronti, quindi direi di scolarli e li facciamo saltare. Possiamo mettere qualche, un po' di grattugiata di bottarga anche nella padella mentre saltano. I nostri clourjones sono pronti e ora possiamo impiattarli. Ora siamo pronti per impiattare. Io ho scelto un piatto piano. Solitamente le porzioni che vi verranno servite sono più abbondanti. Noi faremo un piatto, diciamo gourmet, quindi metteremo tre clourjones. Prendiamo anche le arselle e le aggiungiamo al piatto. Ci possiamo aiutare anche con delle pinzette se vogliamo. Prendiamo anche un po' di sughetto della pasta. Prendiamo la nostra emulsione con la bottarga, lo zenzero e l'acqua delle arselle. Aggiungiamo, sempre con le pinzette, ho preparato delle listarelle di bottarga. Diamo un'ultima grattugiata con lo zenzero. I miei clourjones con la bottarga sono pronti. Provatelo anche voi a casa e poi ditemi che ne pensate. Carta... Ho scelto un piatto a fondo? No, ho scelto un piatto piano. Ok, allora. Ok. Condite con... Eh, no.